Iuliana Moreira contro Vladimir e tutti con lui non potete farlo. Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 29 maggio su Canale 5 e condotta da Vladimir Luxuria, Iuliana Moreira ha espresso un acceso sfogo. Con la finale ormai vicina, prevista per il 5 giugno, le tensioni tra i partecipanti e i giudizi del pubblico si fanno sempre più intensi punto durante la puntata. Edoardo Stoppa è diventato il nuovo leader, battendo Matilde Brandi e garantendosi un posto in finale. Nel frattempo, Linda Morselli e la modella Chiari Gay sono state eliminate, con quest'ultima che ha dato il bacio di Giuda a Karina Sapsai. Inoltre, momenti emotivi hanno caratterizzato l'episodio. Come la commozione di Aras Senol per il messaggio della fidanzata e le lacrime di Artur Dainese per il messaggio della nonna punto Iuliana Moreira, nonostante il marito Edoardo Stoppa sia già in finale, ha manifestato la sua frustrazione subito dopo la puntata. Dopo aver trascorso alcuni giorni in Honduras per sostenere il marito, Iuliana ha fatto ritorno a casa. Ma non ha potuto trattenersi dal commentare quanto accaduto durante il reality punto la showgirl si è rivolta direttamente al pubblico, esprimendo la sua disapprovazione per il proseguimento di Artur Dainese nel gioco. Artur, già al centro di numerose polemiche e criticato dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, è riuscito ancora una volta a salvarsi al televoto. Suscitando lo stupore generale punto Iuliana Moreira ha dichiarato, per me è un no. Sono d'accordo con Sonia Bruganelli, Dario Maltese e Greta, ma anche tutti gli altri. Ma com'è possibile che lui vada avanti? No, io dico no. Ma voi che votate e che usate il televoto, ma vi rendete conto chi state mandando avanti? Mandate avanti una persona che ha fatto di tutto e di più. Cioè, io dico no, no e no. Non sono d'accordo punto questo sfogo riflette le crescenti tensioni e le controversie che hanno caratterizzato questa edizione dell'Isola dei Famosi. Con la finale alle porte, l'attenzione su ogni dettaglio e ogni concorrente si fa sempre più intensa. Promettendo ulteriori colpi di scena e momenti emozionanti punto la reazione del pubblico è stata immediata e divisiva. Mentre alcuni sostenitori di Iuliana hanno appoggiato la sua presa di posizione, altri hanno difeso Arthur. Sostenendo che le sue strategie di gioco e la sua resistenza alle critiche siano proprio ciò che lo rende un concorrente interessante punto sui social media, i commenti non si sono fatti attendere. Alcuni utenti hanno espresso il loro disappunto per la permanenza di Arthur, accusandolo di manipolazione e slealtà. Altri, invece, hanno elogiato la sua capacità di sopravvivere alle avversità e di giocare in modo strategico. Arthur è un vero giocatore. Non potete biasimarlo per usare le sue abilità a suo vantaggio, ha scritto un sostenitore su Twitter. Un altro ha commentato. Iuliana ha ragione.